Dottoressa Stefani, con questa apparecchiatura lei cosa potrà fare in più per i suoi pazienti? Con questa apparecchiatura andiamo ad arricchire l'offerta di diagnostica non invasiva nell'ambito delle cardiopatie congenite di tutte le età. Il test cardiopolmonare infatti è considerato il go standard per la valutazione della capacità funzionale cardiorespiratoria. Si parte oggi poi con una proposta innovativa che va oltre il comune follow up del cardiopatico congenito cioè la valutazione delle capacità funzionali relative all'attività sportiva. Ricordiamoci che l'80% delle esclusioni dall'idoneità sportiva sono per causa cardiovascolare e tra queste il 20% sono legati a cardiopatie congenite. Capite bene che la maggior parte dei bambini e dei ragazzi portatori di cardiopatia congenita vengono esclusi a priori anche quando avrebbero la possibilità oggettiva di fare una pratica sportiva. Con questo esame noi abbiamo l'intenzione di offrire dei parametri oggettivi sulle reali capacità funzionali in una condizione basale puoi seguirle nel tempo in modo da valutare quanto migliori la prestazione cardiovascolare col tempo facendo l'attività fisica idonea.